Ha provato a forzare la saracinesca d'accesso alla sala slot del Bar del Ponte a Tolentino, ma un ragazzo residente in un'abitazione vicina è riuscito a metterlo in fuga. Sulle tracce del malvivente ci sono ora i carabinieri, mentre per il Bar del Ponte si contano i danni che ammontano a qualche centinaio di euro. Se infatti il ladro non è riuscito nel suo intento di mettere le mani sulle casse delle slot machine, purtroppo la sua breve azione è bastata a danneggiare l'infisso. In queste ore gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona e di via del Foro Boario, nel tentativo di risalire all'identità del ladro.